Attingere al passato ha la tradizione per riscoprire la vera essenza e far rivivere lo spirito con cui la festa del mare ha preso vita 57 anni fa. Un tempo le famiglie di pescatori erano più di una cinquantina e vivevano il mare con mezzi e difficoltà oggi superate. Si andava a vela, gli equipaggi erano di 15-20 persone e si prendeva il mare per almeno due settimane. Famiglie e figli attendevano il ritorno dei loro cari convivendo con ansie e paure ed il mare si sa anche i più esperti non fa sconti a nessuno. Ma un giorno all'anno il mare e la vita di sacrifici mettevano il vestito della festa e si usciva in mare tutti insieme, si commemoravano i defunti con la toccante cerimonia del lancio della corona in mare e poi si gettavano le reti. Si mangiava a bordo e il pesce avanzato si consumava sulla banchina del porto, accesi i foconi con il resto della città. Un modo vero e sincero per condividere con tutti il mondo della marineria. La 57esima festa del mare di sabato e domenica prossimi rivivrà questo spirito. La festa del mare è qualcosa di più profondo, non è soltanto una festa, è un rinnovato legame che la città rinnova con il mare, con le sue tradizioni, con tutto quello che ha significato il porto, la marineria. Fanno una città di mare ma è stata uno dei porti più importanti per quello che riguarda la pesca e quindi anche il borgo, le famiglie, ognuna racconta qualcosa che abbia a che fare con storie, con emozioni, con gioie, con dolori che il mare ha dato nel suo tempo. Abbiamo due giornate, quella di sabato 6 e domenica 7, una dedicata di più alla ricreazione e invece domenica quella più sacra, quella delle celebrazioni che culminano con la deposizione delle corone caduti, soprattutto quella in mare dove tutti insieme su una barca si andrà a assistere a questo gesto simbolico e commovente per alcuni versi. Si tornerà festeggiando alla Marina dei Cesari al porto turistico facendo un aperitivo insieme che emula un po' simbolicamente quel pesce che avanzava dal cibo sulle barche che veniva dato gratuitamente alla gente sui moli. E poi ovviamente il festeggiamento, ci sono tutti i ristoratori, in particolare due ristoratori animeranno la banchina del porto, Peschereccio e la pista di pattinaggio in queste serate e poi il grande spettacolo pirotecnico di domenica sera.